Una riflessione importante è che la gente ragiona a dogmi e ragionare a dogmi è un grande errore. Vi faccio un esempio interessante. Facebook ha cambiato l'algoritmo, abbiamo già parlato più volte e la mia posizione è sempre la stessa da un sacco di tempo. Numero uno, due anni fa, un anno e mezzo fa, ho detto che la spesa pubblicitaria su Facebook sarebbe cresciuta, cioè il costo sarebbe andato su, perché? Perché sempre più inserzionisti stanno arrivando e per cui se oggi spendi 100 euro e raggiungi 1000 persone, domattina con quei 100 euro tu raggiungi 10 persone. Dall'altro lato, oltre alla crescita pubblicitaria, al fatto di obbligare di fatto le aziende a pagare per avere visibilità, resta valido però il fatto che se tu crei dei buoni contenuti, a quel punto il contenuto valido spacca lo stesso, a prescindere. Detto questo, tu devi sapere quali sono le regole di Facebook per giocare al meglio le strategie tecniche di quella piattaforma. Oggi ho postato dicendo aggiungimi nei visualizza per primo, avete presente Facebook ha una funzionalità dove tu puoi settare le pagine che segui e dire fammi vedere questo contenuto per primo. Immediatamente quelli che ragionano per dogmi hanno scritto dicendo ah Montemagno vedi sei lì che da un lato dici che bisogna creare contenuti, poi in realtà vai lì e lemosinare i like. E questo è segno di grande ignoranza, perché non capisci che da un lato devi avere la strategia generale di come ti muovi e dall'altro lato giochi con tutte le regole di quella piattaforma usando ogni strumento che ti dà a disposizione. Se ti dà a disposizione la possibilità di essere aggiunti per primi, fantastico, tu fai leva su quello, fai leva su ogni funzionalità che ti dà. Charlie Munger dice giustamente che una grande capacità delle persone in gamba nel lavoro è quella di riuscire a tenere in mente due concetti opposti contemporaneamente. Il briccino del giorno, Agarty on Creativity. Agarty è questo creativo inglese molto famoso, ha fondato questa agenzia, ha creato i partner di Bartle Bogle Agarty, BBH, ha fatto un sacco di campagne, tipo questa qua, la ricordate? L'avevo parlato in un libro, era molto carina. Pubblicità dei jeans, Black Levis, When the word zigs, zag. Geniale. Ed ha un po' di considerazioni, poi c'ha tutti i suoi schecchettini fatti a mano, ad esempio questa sulla tecnologia. Perché la matita è una grande tecnologia, non c'è bisogno di batteria e mille altre funzionalità. Osservazione di Elon Musk. Interessante in un'intervista dove dice in sostanza che è incredibile come la produzione di un'automobile, anche se loro mi sembra cercano di produrre il più possibile le loro fabbricose, ti può bloccare il fatto che non hai magari una valvolina minuscola. Questo secondo me è un aspetto importante. Noi ad esempio nel Lanci4Book Spagna siamo fermi perché nel modulo di pagamento, di checkout, tutto tradotto, nel momento in cui cambi la lingua da italiano a spagnolo, da inglese a spagnolo, non viene riconosciuta la traduzione di una riga del footer. E quindi uno dice vuoi fare perfezionista? No, però oggettivamente è problematico, insomma, se il footer è il copyright della società tra dettagli e invece non esce, dici che aspetta, beh, lì abbiamo un problema magari anche legale o terms of privacy o quello che è. E quindi è incredibile come sei forte, come si usa a dire, e soltanto quanto è forte il tuo anello più debole. Che miseria. Four Books Spagna. Vogliamo vederlo? Lo faccio vedere in anteprima. Quascio abstract al mes en español de quattros nuevos libros de business. Grandes autores, grandes libros. Una lezione utile ripassata oggi è stata quella di tenere a mente di non aver paura di rimangiarti la tua parola quando in buona fede stai cercando di trovare la soluzione giusta. Steve Blank, che è un professore, autore del libro Four Steps to Epiphany, se non sbaglio si chiama, giustamente dice che le startup non hanno un modello di business, sono in cerca di un modello di business. Allora nel caso di Slashers abbiamo preso la decisione stamattina di non fare un'iniziativa che avevamo stabilito e giustamente i miei hanno detto, Monti, però poi quale sarà la reazione da parte della community o delle persone esterne? Il problema non è far brutta figura, il problema è quando tu cerchi di lanciare un progetto nuovo, a quel punto continui a cambiare in base a come ti sembra la migliore decisione in quel momento. Magari all'inizio ti sembrava che fosse ottimo lanciare questa roba qua, i pannolini no, oppure pensavi di farle verdi e poi capisci che invece vanno fatte viola o con i pomponi. C'è un bellissimo video, andatelo a vedere, di Steve Jobs che fa la presentazione della strategia di Apple e ad un certo punto c'è un tizio che lo attacca dal pubblico dicendo ma perché vai a bloccare questo prodotto qua, a dismettere questo prodotto qua, che è meraviglioso, che ne sai tu e che hai fatto in sto periodo, no? Era uno Steve Jobs rientrato in Apple. E lui spiega giustamente come tu a volte devi togliere, 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 devi concentrarti sulle cose che funzionano di più. Abbiamo aperto varie posizioni per Slashers e 4Books, è uno strumento carino che abbiamo iniziato a usare, Brisi mi sembra che si chiami, e l'idea è quella di centralizzare la gestione di tutti i curriculum e tutti i profili e poi un problema che hai è che se tu devi raccogliere tanti curriculum, poi hai più persone che devono guardarli, dare la loro opinione e magari hai il responsabile tecnico, il responsabile dei contenuti, entrambi devono dare un'opinione e poi bisogna capire se è piaciuto a tutti quel profilo oppure no. Allora hai questi sistemi che centralizzano, danno accesso a più persone, ognuno può mettere le sue note, puoi avanzare i diversi profili e vedere a che punto sta, puoi togliere subito quelli non interessanti o scalare o segnalare a quelli che sono invece più interessanti, strumenti utili ecco, incredibile come un sacco, Perdi mi ha attaccato alle spalle, casita, e mi ha fatto prendere un infarto, pensavo fosse un rapinatore, capito, arrivato che mi stava accucando alle spalle, Perdi, saluto, basta, non puoi essere sempre presente. È interessante perché alcuni mi hanno scritto, ma perché su 4Books non leggi l'abstrat usando la tua voce? E a parte ringraziare, ma immaginate che m***a se li leggo con la mia voce, però il ragionamento a monte è carino, uno dice ma scusa la tua voce viene identificata oggi, bella o brutta che sia, perché non la usi per leggere tu gli abstract di 4Books? E qui secondo me c'è una pecca di ragionamento sul tema della scalabilità di un progetto, che cosa vuol dire? Che se tu ti metti a fare una serie di attività all'interno del tuo progetto, non vai più a casa, perché a quel punto il tempo che tu dovresti dedicare per lavorare sul tuo business, lo usi per lavorare nel tuo business. Immaginati se tu a quel punto, come vogliamo fare noi, hai 4Books che sono 60 abstract in Italia, più quelli di ogni paese corrispondente, e magari hai migliaia di abstract a fare in un sacco di lingue diverse, come fai a farle? L'obiettivo è sempre quello di ragionare su quali attività possono effettivamente scalare, quali possono andare avanti a prescindere da te. Chiaro, o sei Tom Cruise e allora sei l'attore, e allora devi esserci per forza tu, ma tutte le altre attività che non richiedono la tua presenza ad ogni costo, devi cercare di delegare a qualcuno, se no sei il colo di bottiglia.